25 milioni di euro per la riqualificazione di Mantignano e Ugnano, aree periferiche ma di alta vivibilità. Ne ha parlato il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il progetto più significativo è il bypass che collega le due frazioni che risolverà i problemi di viabilità. Abbiamo l'accordo con Autostrade, finalmente dopo 20 anni di blocchi siamo ripartiti, i lavori dovranno terminare entro la fine dell'anno, al massimo i primi mesi dell'anno prossimo. Tra l'altro oggi abbiamo anche preso in considerazione la realizzazione di una pista ciclabile in parallelo al bypass di un chilometro e può essere un ulteriore elemento di riqualificazione. Vorrei anche ricordare il complesso di San Bartolo a Cintoia, con tutto il polo sportivo, 10 milioni di euro di investimenti. Oggi pomeriggio con il presidente del quartiere di Ormentoni inaugureremo il manto del campo di football americano e tutta una serie di interventi tra cui anche la riqualificazione del parco del giardino di Ugnano che tra l'altro sarà intitolato ad Andrea la donna che è stata crocifissa e violentata due anni fa proprio in questa zona. È un intervento quindi complessivo articolato che riguarda pubblica illuminazione, giardini, sicurezza, viabilità, marciapiedi e che rientra nel nostro piano di investimenti che saranno già realizzati a cominciare da quest'anno.